Sarà la festa delle culture il prossimo obiettivo della Interamnia World Cup che mira per il 2022 in occasione del cinquantennale a divenire un appuntamento per l'intera regione Abruzzo. E' quanto emerso dalla conferenza stampa di questa mattina all'emiciclo voluta dal consigliere regionale Pietro Quaresimale a poche ore dall'approvazione in aula della legge che finanzia l'edizione 2019 della manifestazione sportiva e apre a un sostegno per gli anni futuri. Sono molto soddisfatto perché ieri è stata approvata questa legge che prevede un finanziamento per l'edizione della Coppa Interamnia del 2019 ma è un primo passo per poi rilanciare questo evento che è molto importante non solo per Termo, per l'intera provincia ma anche per l'intero Abruzzo. Sicuramente ci sarà poi una legge organica che dettaglierà questo evento in maniera più specifica e quindi tutti insieme le istituzioni in sinergia potranno fare bene per il rilancio di questo evento che come diceva prima rappresenta un fiore dell'occhiello. Presenti all'Aquila anche il sindaco di Teramo Gian Guido D'Alberto, il vice sindaco Maria Cristina Marroni ed il presidente dell'Interamnia World Cup Pierluigi Montauti. La Coppa Interamnia non è un evento limitato alla città di Teramo ma è un evento che parte dalla città di Teramo e si allarga a una forza dirompente, la forza che non è legata solo all'attività sportiva ma è una forza culturale attraverso il dialogo con tutte le altre comunità, gli altri territori. Teramo città aperta al mondo è un po' un messaggio forte che noi vogliamo rilanciare, l'aspetto culturale di una città che ha enormi, grandissime potenzialità che devono essere sviluppate.